Un minore di Salerno è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la scorsa notte abbia ferito con diversi fendenti, utilizzando un coltello, la madre che versa in gravi condizioni all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane è stato ammanettato ed inchiuso in un centro di accoglienza per minori a disposizione dell'autorità giudiziaria del Tribunale per i minori di Salerno. Ma non è l'unica aggressione ad un genitore. Infatti, nei giorni scorsi, un altro ragazzo residente a Casalvelino è stato ammanettato mentre aggrediva il padre. Ora è rinchiuso nella casa circondariale di Vallo della Lucania. Le indagini sono dirette dal capitano della compagnia di Vallo della Lucania, Mennato Malgieri.